vado a prenderlo a dire la bocciata lo shampoo? si guardi se questo non ha capito un cazzo vai vai piccio facci vedere lo shampoo che lo siamo questo non è manco lo shampoo noi siamo il bansamo noi siamo lo bansamo possiamo far vedere cosa vuoi? si si guarda usiamo questo se non metto a fuoco